Ma ciao a tutti ragazzi ben arrivati o bentornati sul mio canale in questo video vi andrò a parlare di come strutturerò il canale da oggi in poi stiamo crescendo abbiamo superato i 1000 iscritti sono super contento grazie davvero davvero a tutti e piano piano la pagina sta continuando a crescere però ragazzi però per avere sempre un passo bello costante bisogna avere un piano preciso e qual è questo piano semplicemente ragazzi ho strutturato un piano editoriale fatto a modo dove ho analizzato tutto il mio canale e innanzitutto è venuto fuori ragazzi una cosa che già percepivo cioè che le recensioni sono ovviamente molto molto più apprezzate delle escursioni ahimè sono un po dispiaciuto però bisogna fare quello che anche la community chiede mi sembra giusto no se uno mi chiede fammi una recensione perché devo andare a fare un'escursione cioè mi sembra anche una cosa logica sia per me che per voi ovviamente questo non significa che le escursioni non le farò più anzi le farò se volete seguirmi seguitemi in tutti gli altri canali gli instagram tiktok che trovate tutto in descrizione in modo da poter vedere anche dove mi trovo porterò sul canale ovviamente lo speciale mille iscritti che sarà un bellissimo viaggio a berlino in modo da potermi farmi conoscere meglio anche io più che magari appunto farvi vedere berlino ci saranno anche delle recensioni in questo video ovviamente questo video rimarrà anche qui appunto per diverso tempo perché sarà il video di presentazione del canale quindi che cosa voglio dirvi semplicemente se volete conoscere meglio anche chi sono cosa mi piace andate a vedervi anche questi video dello speciale mille iscritti che magari quando saremo in centomila saremo in un milione pensate che bello che viaggio insieme abbiamo fatto pensate che che cosa fighissima no che voi siete qui che mi conoscete c'è qualcuno che mi conosce oramai dai 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 primi 100 iscritti e siamo arrivati a mille pensate figo se entrate in questo bellissima in questa bellissima community e raggiungiamo insieme chissà quale risultato eccezionale come strutturerò il canale semplicemente ragazzi per ora sto facendo un video a settimana ed era veramente massacrante è veramente una cosa molto massacrante che non riesco più a fare soprattutto non riuscivo ad avere più il risultato che volevo ottenere quindi che cosa farò semplicemente calerò i video ne farò quattro a settimana strutturati meglio dove appunto ho già a lungo termine stilato i video che voglio portarvi sul canale per avere un piano bello bello preciso e in questo modo sono convinto che raggiungerò dei risultati migliori sicuramente migliori di adesso che mi sento che sto facendo un po' le cose a random no e quindi cosa si deve fare quando si mi sento un cavallo pazzo devo domarmi e iniziare a fare le cose come si vede nel modo giusto e soprattutto organizzato per non lasciarvi solamente a questi due video perché uno potrebbe dire va bene bravo Tom per ora mi devo andare a guardare il video di Berlino magari Berlino manca mi piace per conoscerti vi parlo brevemente di me io ragazzi sono Fiori Tommaso prima di essere Tom Search e da circa quattro mesi lavoro anche in Decathlon lavoro al Decathlon di Grosseto ve lo dico per essere il più chiaro possibile il più sincero perché in questo canale troverete solamente recensioni di materiali di Decathlon e questo non significa che io sia di parte o meno ovviamente ragazzi ho una sponsorizzazione con Decathlon ho una partnership per portarvi materiale Decathlon ma questo non significa che io appunto vi debba dire che tutto quello che fa Decathlon è bello è utile eccetera no ragazzi non è così tutto quello che vi porto sul canale ovviamente lo testo a fondo in modo da potervi dire veramente le cose nel profondo dettagliate e soprattutto potervi fidare di quello che vi dico essendo anche dall'altra parte ho la possibilità di scavare anche a fondo appunto nei vari prodotti per capire cosa anche la gente vuole di più cosa portarvi pensate anche posso tre virgolette potete essere anche un vero punto di collegamento fra il cliente eventualmente l'acquisto perché voi potrete ragazzi tranquillamente chiedermi anche recensioni specifiche perché lo farò tranquillamente sto cercando di accontentare tutti mi stanno arrivando tante richieste Tom prova quello prova quell'altro nel limite del possibile cerco veramente di accontentare tutti però ragazzi su questo canale ovviamente potrete trovare recensione di materiale variegato per la montagna perché il mio motto ragazzi è la montagna è di tutti e per tutti questo che cosa significa semplicemente ragazzi che io credo fermamente che non ci siano limiti a quello che le persone possono fare l'unico limite spesso solamente la mente e questi maledetti social a volte ci inculcano che per fare una determinata cosa anche solamente per farsi una passeggiata in campagna serva chissà che invece non è così serve semplicemente utilizzare l'attrezzatura giusta nel posto giusto ragazzi ragazzi ragazzo vi stavo stavo parlando proprio a te ragazzo o ragazza che guardi questo video in questo canale spero che possiate trovare un amico un fratello e soprattutto una community che lentamente o anche velocemente ragazzi non mi dispiacerebbe possa continuare a crescere e che sia un punto di riferimento su quello che è appunto l'incredibile mondo del materiale di Decathlon potrai trovare anche qua delle offerte che comunque sono anche imperdibili su tutto il catalogo Decathlon ve le porterò sul mio canale Telegram porterò delle offerte inerenti ovviamente al mondo della montagna e fidatevi ce ne sono tantissime in questo modo anche voi potrete fare acquisti oculati ovviamente ragazzi non ho preavviso quindi le offerte arrivano e io ve le riporto cercherò di fare sempre delle ricerche il più accurato possibile e non di portarvi non lo so la chiave da tre centesimi scontata uno cercherò di portarvi delle offerte che siano migliori possibili e che vi siano davvero davvero utili ovviamente ovviamente seguitemi anche sugli altri social per vedere che cosa faccio e dove sono appunto se in caso nel vostro interesse non avete la voglia di guardare le escursioni ma volete semplicemente vedere che cosa faccio appunto come tutti sapete c'è Instagram, TikTok, trovate tutto in descrizione spero che appunto quello che è il mio canale sia stato chiaro, che io sia stato il più chiaro possibile ve lo ripeto benvenuti o bentornati sul mio canale non vedo veramente l'ora di portarvi tantissimi contenuti sprizzo veramente un sacco di energia ragazzi perché voglio 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 veramente cercare di essere il vostro punto di riferimento per quanto riguarda la montagna accessibile a tutti bene ci vediamo sul canale in tutti i miei video in tutte le mie recensioni un saluto dal vostro Tom Serge ciao ragazzi